Nome? Luciano. Cognome? Nati Chioni. Data di nascita? 30 gennaio 1968. Professione? Imprenditore. Insieme al mio fratello siamo titolari di un'attività commerciale. Le tue passioni? Le mie passioni sono lo sport, in particolare il calcio e la musica. Le tue priorità nella vita? Le mie priorità sono la famiglia, il lavoro e aiutare gli altri. Insieme a degli amici faccio parte di una compagnia teatrale amatoriale e tutto quello che guadagniamo lo diamo in beneficenza. Perché sei nel movimento? Sono nel movimento perché sono stanco di questi politici, dei giornalisti, della carta stampata, della televisione e di tutti quelli che non vogliono la democrazia. Se dovessi essere eletto consigliere municipale, come svolgeresti il ruolo di portavoce? In totale onestà, coerenza e determinazione. Dimmi tre cose urgenti da risolvere nel municipio. La prima sulla trasparenza, la comunicazione con i cittadini, con le associazioni e con i comitati di quartiere, secondo me, è fondamentale. Il secondo punto è quello del maggior controllo dei lavori pubblici all'interno del nostro municipio. E la terza è quella della gestione oculata delle poche risorse economiche all'interno del municipio. Un pensiero in libertà? Cito una frase di Martin Luther King Può darsi che non siete responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.